Musica 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 ...di due minuti per me. Ragazzi Sono come una figa E ci siamo, ci siamo al convento di un altro. Abbiamo lui Un contante, un solista ... 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 boschi che si aggirava o forse si voleva imbuscare non lo so però l'abbiamo recuperato ce l'abbiamo e ci canterai? ci canterai? ci sarai va bene ascoltiamo il nostro Michael Stone parente di... parente di Sharon se se come una fotografia dai contorni incendi certi è questa vita la mia la trovo in un cassetto e poi ogni giorno dentro agli occhi tuoi se vuoi parlami di come la fortuna spetta e tienimi tra le tue braccia ancora per un po' dimmi che tu ci sarai quando il tempo su di noi avrà ormai lasciato segni che non vuoi dimmi che tu ci sarai quando la malinconia vestirà i ricordi della vita mia toglierò la polvere laverò le lacrime che tu non vuoi oltre 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 Non sai, sai, e non stancarti mai, dimmi che tu ci sarai, quando il tempo su di noi avrà ormai lasciato i sogni che non vuoi. Francesco. Francesco? Chi è Francesco? L'autore. Il? L'autore. Ah, l'autore. Venga, ok, ok. Mi dico, sei un suo fan? Ti piace un sacco? My love. Ok, perfetto. Ciao. Aigo Fonda. Cade gli oppi. Ora tocca al boa. Il? Grazie a tutti.